Come si chiama quell'ama? Fa parte della tua famiglia? Ha un carattere difficile? All'aria di essere molto mansueto. Ma allora è capace di fare qualche esercizio strano? Se non sbaglio anche un amico qui, vero? E' un amico che mi piace, perché mi piace gli occhi. E' pieno. Io avevo un uomo, un uomo, un uomo. E' un uomo, un uomo. E, infatti, i miei uomini lo attacchi. E' stato molto bello, ma era così bello. L'uomo è Lola. E ora ho lui. Lui è davvero bebe. Beh, si vede. Sì. Certo, Louie? Diciamo ciao. Diciamo ciao a tutti quei persone magiche. Ciao, Louie. Sai una cosa? Mi sembra un po' timido. Senti, se non sbaglio è apparso assieme a te in alcune fotografie, su alcune riviste e via dicendo, giusto? Sì, credo che i miei amici e i figli lo conoscono. Dicendo le foto e le cose. E' bello, perché la maggior parte le persone pensano che si tratta e si tratta, ma non lo fa. E' davvero bello. Certo, Louie? Dicendo, ciao. Noi, Louie. Fai un bel sorriso. Ok. Ok. Next, I'll be down the driveway. It's nice to see you. It's relaxing. Michael, come fai? Come fai a conciliare tutti i tuoi impegni? Party? Come fai a conciliare tutti i tuoi impegni? Um, I guess, I deal with my schedule. You get gradually, you get used to it. You go day to day with the routine. I get presented a schedule every morning, and I fulfill it. I found out this morning that I was going to be doing this. And, uh, you know, get out of her ear. And, um, I guess it's something you just get used to doing. You're part of your work. You're fulfilling your job in the routine or whatever. But it's fun to be at home sometimes and just relax like this. I think it's very important because as a performer, you can perform, but if you don't have anything to play back off of, to bounce off of, um, your performance isn't as, uh, dynamic. I think the fans could be the energy. Uh, uh, you play off of them. Uh, uh, can you hear me? I don't know. Um, you can come see, that concent premiers me up there? Uh, 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 uh. Si senti la musica, è come un painter, penso. Si approcci il canvas con il paintaggio e il brush, e sei inspirato da le cose around te, penso, e quello che è dentro di te. E tu lo fai, e io piace creare magica. Michael, cosa intendi dire con creare la magia? Quando ho spiegato magica, mi chiamato, l'excitement, l'unico, l'escapismo, creando qualcosa che è così incredibile, un'illusione. Poi mettere le persone in una situazione, no importa quale sia, e rendere tutto l'opposito o l'unico, così più di più di quello che pensano succederebbe. E questo mi piace. E questo mi piace creare magica, l'excellenza. Mi piace fare questo. Non c'è nulla. Ho provato a farlo in tutto quello che faccio. Tu scrivi anche le canzoni che canti, quindi sei cantante e autore. Anche scrivere canzoni è qualcosa che senti dentro. Le idee, le canzoni che ho ricevuto, ho sempre detto che non scrivo le mie canzoni, perché sento che sono solo una fuori, un tunnel, una verità in cui vengono. Mi sento che in spazio ci sono stati scritti. e che non mi sento ancora. E' come, Billie Jean e Beat It, e le canzoni che sono stati qui, che sono stati arrivati a me. E' come mi sento. E' come mi sento. anche se non mi sento, non posso sempre prendere credito. E' come ogni grande arte, a questo, da Vinci. che non mi sento. Non sono un bel giorno. E' come un giorno. E' come un giorno a me. Lui stranotte. tra ispirazione anche dai bambini voglio dire sono anche loro una fonte di ispirazione per te si, come si sape questo? è molto vero io credo che sono molto speciale io credo che sono la migliora inspirazione per me bambini e animali e di Dio cose così non posso capire l'espirazione sono così magica quando sono around loro sento più vivo io credo che posso fare qualcosa they charge me they give me energy they really do I think the majority of my success has been the inspiration of kids I really do I don't think I've ever done an interview outside the trees and bushes walking me come mai vivi in una casa come questa? sembra un posto irreale da favola per quale motivo hai scelto di vivere in una casa come questa? è vero, questa non è una casa comune sembra quasi un parco di divertimenti per bambini perché hai deciso di venire ad abitare in una casa come questa? come qui? well uh the reason why I like the house I live in I the whole theme of it I want it to be mainly for kids um cause when they come here I like to be inspired by their reaction I like to go to Disneyland a lot. I like seeing them have fun. I go there to get my daily dose of inspiration, really, if I can, and when I come back I'm ready. I'm ready to take on everything. It's really good. It's magic. The eyes, the face, the expression, the characters. Magic. You see, we're doing a new album right now. It's the Jackson's album. And I'm writing several songs on it. The latest one I'm writing is called Buffalo Bill. It's about Will Cody, the cowboy, and how he died. And I'm really excited about it because I really, I hate to say I know it's going to be a hit, but I really feel, I feel strong about it. Then I'm writing a song about a Liberian girl, about a Liberian girl. And I'm excited about that. I'm excited about all my projects. And I'm just living day to day, dreaming and wishing upon stars and all that magic stuff. Ma così sei costretto a vivere più momenti magici in una volta sola. Yeah, yeah. A lot of things are going on at the same time. Are we making magic here? Let's go in the back. Nothing. Let's go in the back where the Tivoli lights are. Oh, man. Why didn't you guys tell me you were shooting? I'll be right down. One sec, okay? Hold on. Oh, my God. It's dusk. The moon is out. The most beautiful part of the day. I can see some of the stars coming out. Very beautiful. Everything comes to life. The fireflies are in the trees and everything's becoming magic. It's, it is, I would say it is my favorite part of the day. Dawn and dusk. There's a certain magic about it. It does seem like everything that pray upon the night starts to, you know, come out, be it the creatures, be it the birds that return to their nests. I like dawn also. Some psychologists say that, that dusk, for a lot of creative people, you reach your alpha state subconsciously, you become more creative in certain parts of the day. But for me, it can be any time, you know. I am, I just like creating. It's no special time. But this is really magic to me because it's like, it's like a painting. It's very artistic. It's magic. It's so beautiful. Just the sound of water is magic. It's really beautiful. See how many lights? I think with any type of creation, you create what's inside of you. Subconsciously what influences you. I'm a fantasy fanatic. And anything that takes you off into another world, escapism, that's what I like. I'm not so crazy about the reality of everything. I like a lot of fantasy. And that's what I try to create. To get away. To become moved. To become moved. To become moved. Began dancing on a cloud. Soaring up so high. Watch me now Watch me now I need you to be I can do anything I'm so sorry I am forever It's It's a magic It's hard to explain it I feel like I can just jump up I swear and take off But I think too hard about it I don't like to do it You can feel The energy Everything around you You just feel it The energy from the moon All the plants Everything around you It's wonderful I am Nature And animals And all those things Are very inspirational To my work I play off of those things My children And It stimulate ideas It creates all kind of things I just can't tell you I think the majority of my success Is from these sources Some people say We're going to detail But it's hard You really can't It's just the whole world of it You just play off of life I think it's the same thing What inspires Painters And sculptors And People of the arts It's the whole world of it It's just It's fantastic It's just the same thing It's just the same thing You I I I